Matteo Xalle, allenatore della Reier Venezia, si è concluso proprio adesso da pochi minuti il bel torneo, quattro giorni di tanto e grande basket. Sì, è stato un torneo fantastico, di alto livello, ben organizzato, dove ha portato quattro delle più forti squadre a livello nazionale, più altre società molto blasonate, quindi complimenti, bella organizzazione, bel torneo. Federico Miaschi, tuo ragazzo, miglior realizzatore del torneo, descrivicelo in qualche parola, insomma, quello che è il giocatore Federico Miaschi. Un gran giocatore, quando siamo giocatori così è anche facile, è un ragazzo che deve ancora crescere, molto estroso come carattere, ha molta voglia di fare, secondo me è uno dei suoi punti forti. Questa sua voglia di fare si è, insomma, riflessa anche in quelle due battute che abbiamo preso anche con lui, diceva soddisfatto chiaramente del premio personale, un po' meno del risultato di squadra perché avrei voluto fare meglio. Concordi con lui? Non concordo, ci siamo trovati un po' in difficoltà in questo torneo, ho trovato questo torneo molto tattico, noi come squadra venete siamo ancora indietro a questo punto di vista, è stata una buona esperienza perché ci ha messo a confronto con delle realtà che trattano già blocchi, zone, alternano difese, quindi in un'ottica di un'interzona è stata una prova molto positiva, secondo me. Complimenti e grazie ancora. Grazie.